Oggi diamo il bentornato nei nostri studi a Temporadio ad Enrico Volpi di Insieme per Castiglione. Bentornato tra noi. Grazie, bentrovati a tutti gli ascoltatori e grazie a te Paolo. Allora, invitiamo gli ascoltatori a tale proposito a partecipare sempre, filo diretto, quindi ricordiamo le coordinate, il numero per mandare sms e i messaggi whatsapp, il 338 17 19 105, se preferite chiamarci, fatelo 0376 63 1709. L'indirizzo mail è diretta a chiocciolatemporadio.it e poi vi invitiamo a usare anche la messaggeria di Facebook, visto che siamo in streaming, sulla pagina Il Gazzettino Nuovo e Temporadio, ci potete seguire e scrivere. Allora, io so che lei vuole parlare di un qualche cosa che dà molto fastidio a tutti i cittadini italiani, non esiste su 60 milioni di italiani un italiano che apprezzi questa cosa, ricevere questa cosa, che cosa? Io stamattina, visto che la condizione e la situazione è molto all'ordine del giorno, volevo parlare di multe. Si sta verificando su tutto il comparto dell'Alto Mantovano, a causa di un'azione intrapresa dalla provincia di Brescia nelle immediate vicinanze del confine, precisamente sul territorio di Montichiari, si sta verificando una situazione al di là del buonsenso, con alcune migliaia, stiamo parlando di oltre, stimate, oltre 35 mila multe, commissionate dal sistema di rilevazione della velocità sito sul territorio di Montichiari, che è in, diciamo così, in gestione dalla provincia di Brescia. Praticamente, in questi giorni, tantissimi cittadini, sia di Castiglione, sia di Solferino, sia di Castel Goffredo, di tutto l'Alto Mantovano e ovviamente anche di tutta la Bassa Bresciana, si sono viste arrivare multe perché percorrevano il tratto di strada che va da Montichiari verso Castenedolo a velocità superiore ai 70 km orari. Va detto che, da sempre, su quel tratto, il limite di velocità è effettivamente di 70 km orari. Il problema è che negli ultimi 4-5 anni l'autovelox è sempre stato sistemato e tarato a 90 km orari, i fruttori della strada l'hanno sempre intesa come un tratto a 90 km orari, anche perché è un tratto di strada che ha le caratteristiche per essere a 90 km orari e i tratti immediatamente successivi precedenti al punto di rilievo della velocità sono a 90 km orari. Stiamo parlando di pendolari, normali cittadini, non stiamo certamente parlando di Schumacher o Hamilton che facessero 200 km orari a quel tratto di strada, che si sono visti arrivare 7, 8, 10, in alcuni casi 40, 50 contravvenzioni, tutte identiche e tutte da pagare con termini brevissimi. La situazione mi è stata segnalata da molti cittadini e va presa attentamente in considerazione. A mio parere si configura certamente la possibilità di fare un esposto o un tentativo di ricorso per verificare l'effettivo modalità di comunicazione del cambio di gestione del tratto di strada e del sistema di rilevamento della velocità. Inoltre è da valutare, a mio parere, l'effettiva buona fede di chi ha per anni creato l'aspettativa negli automobilisti di un tratto normale a 90 km orari e senza dir nulla l'ha trasformato in un rilievo sanzionatorio sui 70 km orari, oltretutto le multe che stanno arrivando sono in arrivo in questi giorni a due mesi dalla emissione, soltanto nella giornata di ieri sull'ufficio postale di Montichiari sono arrivati oltre 4.000 verbali di sanzione. Io credo che si prefigurino certamente le condizioni per una osservazione a livello provinciale perché tutto l'Alto Mantovano ne è colpito e una verifica per cercare di capire che possibilità ci sono di andare incontro a cittadini che si troveranno certamente, spesso e volentieri in condizioni di uno stipendio normale, pendolare con uno stipendio normale che si troveranno 1.000, 1.500, 2.000 euro di multe da pagare. Questo è sicuramente una questione grave che va affrontata. Io credo che in questo caso ci sia ancora una volta la dimostrazione che la pubblica amministrazione invece di tutelare i propri cittadini e di svolgere un servizio per i propri cittadini si comporta come un ente che approfitta della buona fede dei propri cittadini e lucra sulla loro buona fede. Io credo che questo sia un comportamento assolutamente sbagliato che va rivisto e che non va permesso a tutela dei cittadini. Mi fa venire in mente una cosa che disse l'ex sindaco Paganella, adesso non è un discorso politico, parlo dell'uomo di cultura e dell'avvocato, che disse l'italiano tante volte percepisce le istituzioni non come qualcosa che lo tutela, ma come qualcosa che vuole fregarlo. Io ricordo che gli chiesi, è l'italiano sbaglia? E lui disse no, tante volte ha ragione. Considera Paolo soltanto che per tutti questi verbali da 50, 60, 70 euro, perché non stiamo parlando certamente di verbali per velocità pericolose o comportamenti che mettono a rischio la sicurezza di nessuno. Tutti i verbalini di persone che pensavano di passare sotto quello d'altovelox a una velocità inferiore ai 90 km orari, perché quello doveva essere il limite che veniva verificato. Per tutti questi verbali fare un ricorso costa più del valore dalla multa. Quindi certamente, con il rischio oltretutto, che nel caso non venga accolto il ricorso, cosa che sinceramente penso sia probabile, perché come ripeto il limite segnalato è sempre stato di 70 km orari e quindi c'è anche la possibilità che la provincia impugnando a questa situazione ne esca vincitrice, quindi con la probabilità anche di trovarsi a pagare doppio o triplo il verbale in tempi successivi. Quindi una difficoltà anche di ricorrere, io non so se si possa configurare una class action, non so che si è già aperto un profilo Facebook per quelli che hanno preso la multa sulla Salgoitese con oltre 1000 iscritti, certamente la situazione è complicata. Noi a livello provinciale ci muoveremo e vedremo che possibilità ci sono di calmerare questa situazione. Fermiamoci un attimo con Enrico Volpi di Insieme per Castiglione, ci troviamo tra un paio di minuti. Arriviamo. Stiamo dialogando con Enrico Volpi di Insieme per Castiglione, tanti messaggi che sta ricevendo, così possiamo parlare anche dell'amministrazione perché stavo guardando, Volpi lo dica lei di tirare il semaforo di via Caraffe con quello dopo, basta spegnerlo e riaccenderlo per 20 secondi. Posso dire subito, la domanda è arrivata non solo lei ma anche il comandante della polizia locale al sindaco, il quale sindaco, mi ricordo che ha spiegato che sono schede vecchie, però vero è che obiettivamente al mattino in ora di punta si fanno delle belle code? Sì, al mattino si fanno delle belle code, qualche intervento bisogna farlo, lo segnaleremo anche noi nelle prossime occasioni, nel prossimo Consiglio Comunale per esempio, per cercare di migliorare la situazione a livello viabilistico quel tratto è un tratto importante. Questa è una delle segnalazioni, delle tantissime segnalazioni che stanno arrivando dai cittadini che vedendo situazioni che non vanno, che non piacciono o che comportano problemi di sicurezza, si premurano di muoversi in maniera quasi formale, in questo caso un messaggino mandato in radio è un'azione importante, sicuramente non si configura però come una petizione firmata da 50, 60, 70, 100 cittadini, cosa che sta succedendo con regolarità quasi allarmante. Non ricordo che nelle amministrazioni precedenti ci fosse una sollecitazione da parte della cittadinanza nei confronti dell'amministrazione di questo genere, già solo nell'ultimo Consiglio Comunale due petizioni firmate, una da una quarantina, l'altra da 60, 70 cittadini che richiedono interventi urgenti di manutenzione, di sistemazione o che richiedono modifiche alla gestione di alcune parti del paese, nella fattispecie in questo caso erano la sicurezza e l'asfaldatura di Vielo a un cavallo che certamente i cittadini non riescono più a sopportare nelle condizioni nelle quali è e il ripristino della fontana dei cappuccini perché certamente gli abitanti, credo giustamente, ritengono che quello sia un bene che va tutelato, va manutenuto e la fontana è costruita per far scorrere l'acqua e non per rimanere vuota ad accogliere rifiuti e quant'altro e quindi i cittadini loro richiedono. Io ricordo che l'amministrazione ha un termine ben preciso per rispondere a questo tipo di petizioni e anche in occasione della petizione più importante che è arrivata quest'anno da parte del quartiere Primo Maggio con una cinquantina di punti di immediata necessità di risoluzione e legati fortemente alla sicurezza del quartiere ci troviamo in questo momento alla fine del mese, cioè a metà del mese di novembre ancora in attesa di una risposta su una cinquantina di punti 5-6 sono stati affrontati dall'amministrazione e per gli altri non si date neanche risposta. Credo che questa sia una duplice dimostrazione, la prima che la cittadinanza non ce la fa più e ritiene che ormai sia necessario, non dico farsi giustizia da sé, ma comunque intervenire laddove non c'è evidente sensibilità da parte dell'amministrazione e quindi mette per iscritto, mette nero su bianco, si organizza in gruppi per cercare di segnalare e di sollecitare interventi e questa è la prima osservazione abbastanza preoccupante. La seconda è che Castiglione sta dimostrando desiderio di esprimersi, di si pare, di agire spontaneamente. Vuoi questo a causa degli scarsi risultati della funzione pubblica che forse per carenza di soldi, secondo me per carenza di capacità organizzativa e di visione delle priorità non riesce ad affrontare? Vuoi perché c'è un effettivo, un'effettiva necessità di interventi concreti perché la situazione è diventata inaccettabile e insostenibile? In ogni caso sia i gruppi spontanei che si sono mossi in passato per la manutenzione del cimitero e per l'organizzazione di manifestazioni, sia questi gruppi di quartiere organizzati dimostrano una sensibilità, una vivacità nella cittadinanza che non si rispecchia nella attuale amministrazione. Credo che questo sia un punto di riflessione importante che va preso in considerazione. Allora, le leggo più di un messaggio così risparmiamo tempo. Allora, dice Laura, ieri Morandi, del socialista e ambientalista, ha dichiarato molta stima per lei perché non vi mettete insieme alle elezioni e questo messaggio l'ho letto perché proprio Morandi ieri ha dato come critica nei confronti dell'amministrazione, ha detto che il paese si è fermato, lui ha detto testualmente, cioè Castiglione troppo immobilismo fondamentalmente. Un altro messaggio dice sono anni che l'amministrazione lavora di concetto con i privati, vada oltre la semplicistica opposizione strumentale per interesse collettivo e non partitico, dice invece un messaggio più a favore evidentemente dell'amministrazione. Volpi dai una mossa a Novellini perché il paese è morto, ecco questo è un altro messaggio appunto in linea con quello che ha detto lei e che ha detto anche Aldo Morandi ieri. Spero che le prossime elezioni non facciate errori, dovete vincere, dice un altro messaggio. Le chiedono anche se sarà lei candidato sindaco della destra, chiede Mauro. Allora, c'è una serie di cose. Possiamo dividere, sarà candidato lei e poi appunto cosa pensa appunto anche di quello che ha detto Morandi e appunto... Allora, per quanto riguarda il rapporto con Aldo Morandi e con i socialisti, insieme a Castiglione ha sempre avuto un rapporto importante con questo gruppo e da chiarire all'interno del gruppo stesso, dei socialisti e ambientalisti di Castiglione, quali sono le strade che verranno intraprese. Morandi ne ha il segretario, io ne prendo atto, so però che ci sono diverse anime all'interno del movimento e non tutte hanno la stessa opinione. Io e Aldo certamente ci troviamo allineati su moltissime posizioni, una di queste è certamente il problema dell'immobilismo. Io ne do un'interpretazione mia personale, io non credo che questa amministrazione sia proprio immobile, si muove, si muove come? Ma nella direzione sbagliata. Il problema fondamentale è quello, perché ricordiamoci bene che qui non stiamo parlando di non operare e non agire, stiamo parlando di operare e agire nella direzione sbagliata. Faccio un esempio molto semplice. Nell'immediato, una settimana scorsa, penso 15 giorni fa, è giunta la comunicazione di 7 milioni di euro a disposizione del Comune di Castiglione nella gestione del GAL, il gruppo di azione locale che si occupa della valorizzazione di tutto quello che è il comparto ambientale, collinare, colline moreniche, eccetera. Di questi 7 milioni di euro, gli unici due progetti che sono noti sono una parte all'interno di Cascina Valle e una parte nella ristrutturazione del radar dell'ex caserma nato di Grole. Ora, Cascina Valle ce l'abbiamo nel cuore, l'abbiamo lanciata attraverso la consigliera Lanzani nell'amministrazione precedente come un punto fondamentale e importante per Castiglione, ma non è che possiamo ogni volta che arrivano due lire prenderle e buttarle nella torbiera di Valle. Quindi tanti soldi sono stati spesi per la Cascina Valle e quindi sicuramente è un posto da valorizzare, è un sito da valorizzare, ma non possiamo, qualsiasi tipo di risorsa arrivi, vuotarla all'interno di questo bacino. La ristrutturazione dell'ex caserma nato è una cattedrale nel deserto che non è ben chiaro cosa dovrà diventare, forse un laboratorio di multifunzione, forse un sito polivalente, sta di fatto che è là perso nel nulla. Ripeto, dovessimo avere i soldi da buttare sarebbe un'ottima scelta, ma siccome abbiamo tutte le zone della parte collinare verso Bertasetti, Grole e Astore, che sono frequentatissime da persone che vanno a passeggio, che vanno a fare un po' di trekking e che non hanno la minima struttura organizzata o la minima gestione di illuminazione, oppure la zona Cicalaio verso Esenta e quindi le passeggiate Montemerlo eccetera che altrettanto sono totalmente disorganizzate e non gestite, io credo che una parte di quei 7 milioni di euro si potesse pensare di gestire in quella maniera. È chiaro che ci risponderanno sì, no, ma sono tutti soldi destinati, però tutte le volte che c'è una scelta prioritaria da fare ci sentiamo rispondere esclusivamente che siamo obbligati a prendere determinate decisioni, che siamo obbligati a fare delle scelte che niente hanno a che vedere con le esigenze tangibili e immediate della popolazione. Credo che questa sia una cosa importante da valutare. Leggo gli ultimi messaggi perché purtroppo abbiamo finito il tempo, dunque Novellino un grande sindaco, il centrodestra dovrebbe avere il coraggio di ricandidarlo, era candidato però non per il centrodestra. No, non si è candidato per il centrodestra, il problema è che noi siamo un grande sindaco per il PD. Allora, poi ancora Foschini sindaco, anche se vuole il nuovo che avanza. Ovviamente, ironicamente, vuol dire andare con... Allora, no, voglio chiarire, è una battuta. Io stimo moltissimo il dottor Angelo Foschini, mio carissimo amico, faccio parte del suo equipaggio in Barcavela, quindi assolutamente è una battuta naturalmente, però a Castiglione serve sicuramente qualcuno di nuovo che possa unire le forze del centrodestra e non soltanto del centrodestra, che possa condurre un cambiamento che a Castiglione in questo momento serve assolutamente. Allora, Volpi, andare con la Beccalossi è stato un grosso errore se lei veramente civico sia fuori dai partiti, dice un altro messaggio. Insieme a Castiglione non è un partito, l'assessore Beccalossi è assessore regionale, era in tour nelle zone vicine a Castiglione, abbiamo approfittato della sua disponibilità per affrontare un tema importantissimo, qual è quello della ludopatia e delle malattie dal gioco. Io credo che niente di politico sia stato fatto in quella occasione, anzi abbiamo colto una bella occasione per presentare un problema importante a tanta gente. Credo che sia stato un servizio. Poi, altro messaggio, Volpi, Indecast, prima il demonio Tonello, chiedo scusa Tonello, è un messaggio che sto leggendo, poi però adesso capisce, demonio e acqua santa, no? Demonio Tonello, poi acqua santa, Gavioli, il risultato è che i cittadini pagano sempre di più e per che cosa? I cittadini pagano sempre di più, non tanto di più, qualcosa di più, ma sta di fatto che alla fine la gestione Gavioli ha portato a un cambio netto della gestione della nostra municipalizzata, che non è più praticamente la nostra municipalizzata e che si è impegnata a gestire cose che non facevano parte della sua mission. Io credo che ci sono stati fatti degli errori importanti. l'accessione di tutto il comparto idrico per due lire è stata un'azione assolutamente prematura, che andava meglio valutata e meglio approfondita. Io credo che il segretario del PD, Gavioli, dovrebbe impegnarsi diversamente su Indecast o lasciar perdere. Allora, siamo in chiusura, velocissimo, saluto Stefania Solferino, dice se i comuni si uniscono cosa pensa di fare di noi? Però qua, Stefania, a parte il fatto che non è detto che io possa essere il prossimo sindaco, in ogni caso credo che la conformazione della frase denoti quanto i solferinesi sono terrorizzati dall'idea di unirsi a Castiglione, il fatto di cosa pensa di fare di noi, la fa quasi immaginare che ci possa essere una volontà di perseguire o di agire contro i solferinesi. Spero proprio che questa cosa sia lontana dalla testa di tutti i solferinesi. Non ho idea di quale sarà il risultato del referendum che dobbiamo andare ad affrontare domenica prossima e di certo i temi sono molto aspri, terribilmente aspri. Credo che sia stato fatto un errore da parte di tutti nelle modalità di gestione di questa pratica che andava meglio presentata, meglio condivisa e affrontata con serenità da tutti. Benissimo, siamo in chiusura, abbiamo anche sforato, grazie a Enrico Volpi insieme perché siamo. Grazie a voi e alla prossima.